Va bene così, grazie. Una consigliera uscente, una mamma giovanissima, Luigia Obetto. Grazie a tutti, sono Luigia Obetto, molti di voi mi conoscono, sono sposata e ho due figli. Che dirvi, inizia per via una nuova avventura, una nuova campagna elettorale con una squadra poesa, coerente e decisa, la stessa squadra con cui ho condiviso il progetto precedente, nata da un'idea virtuosa, e cioè mettere una volta per tutte, da parte lo scontro, la rivalità e il conflitto, che sono i mali che non hanno permesso a questo paese di avere una classe politica efficiente. È mia convinzione che abbandonare la libertà sia un valore aggiunto e non un demerito, come qualcuno tenta di far passato in modo strumentale. Eccoci qui, siamo persone trasparente e senza doppi scopi, con un unico obiettivo, dare dignità al nostro paese e farlo rinascere. Non ho grande ispirazione e interessi personali, se non quello di offrirmi a voi. Molti vi diranno che hanno una vittoria in pugno e che aspirano alla carica di assessore. Io, a differenza loro, vi dico che ho il solo profondo desiderio di rappresentarvi in Consiglio Comunale, con la massima unità, passione e disponibilità. Mi impegnerò a migliorare e dare nuova vita al nostro paese, perché mi fa male dentro vederlo ridotto in questo Stato. Mi impegnerò a raggiungere tutti i risultati promessi. Mi occuperò di portare in Consiglio le problematiche quotidiane della popolazione, ponendo di fatto il cittadino al centro della nostra idea di dimostrazione ordinaria. Non sono amante dei riflettori, quindi lascerò che i fatti parlino per me. Buona serata e viva Cecilia.